Ciao amici senpai, sono Locky e mercoledì odia quest'hobby! Una piccola panoramica dell'odio di mercoledì per tutti i colori che ci sono coi denti! Aiuto! Cambiamoci la skin e ora faremo parte della Nevermore Academy! Ci personalizziamo il personaggino e ci mettiamo l'uniforme della Nevermore Academy! Ecco qui! Che elegante che sono! Torniamo nel gioco! Pronti? Ci sono più di mille stage! Il rosa, che schifo! L'azzurro pure, il verde, il giallo, il rosso! L'arcobaleno dovrebbe scomparire dalla faccia della terra! Ma oggi completiamo mille stage in un solo video! Sarà un video lunghissimo, senza pause, senza secondi episodi! Superiamo questi laser roteanti! Ed è arrivato il dinosauro che ci vuol mangiare la testa! Fai pure, la mia vita fa schifo tanto! Terzo checkpoint! Giallo! Uuuuh! Il giallo color PP! Che schifo! Prossimo checkpoint! Molto arcobaleno sulle palle! Quelle che mi stanno girando in questo momento perché odio i colori! Dovrò fare così tutto il video? Non lo so! A una certa mi sa che a mercoledì gli piaceranno i colori! È impossibile che riesca a resistere tutto questo parkour! Senza che a un certo punto lei non si è abito ai colori! Cosa scegliete? Gatto o cane? Sì! Elefante! Io ho due gatti! Quindi sceglierò il gatto! E infatti gatti... C'ho due gatti neri! Potrebbero essere dei famigli bellissimi per mercoledì due gatti neri! Mucco o maiale? Mi piace di più il maiale! Eh! Ha funzionato! E adesso? Coniglio o scimmia? Scimmia tutta la vita! E ce l'abbiamo fatta! Superiamo un altro verde natalizio! Io sono un po' come il Grinch! Odio il Natale! E ora su questi rulli... Oh! Aiuto! Cosa sta succedendo? Non lo so! Guardate! Sembra il... Ah! Sembra... No! Sembra il vestito di Hulk! Ma tanto avevamo già superato il checkpoint! Piccola stradina rossa! Una scia di sangue! E ora... Blu! 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 Box e blu! Ce l'abbiamo fatta! Cos'è black and white? Mercoledì! Dove siamo entrati? C'è un hobby dentro a un hobby? Non ci posso credere! L'occhi, questa ti piacerà? Tranquillo! Anzi, l'occoledì... Ma perché c'è mercoledì nuda? Non si dovrebbe vedere questa cosa! Non si dovrebbe vedere! Mercoledì, goditi questa tua hobby dedicata! Perché adesso... Tranquilla! Che... Tornerà nei colori! Manu! Ciao Manu, come stai? Ciao Afetta, come stai? Siamo attenti alle mani perché sono amiche di mercoledì e non nostre amiche! Noi siamo l'occoledì! Un ragno, attenzione! L'avete visto questo ragno? Ragno pericoloso, molto mangioso, molto punciglioso, molto velenoso! Ma cosa vedo nei miei occhi? Cos'è? Un boia quello? Un boia è... No, 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 non è un boia! È qualcuno... È un cacciatore di streghe e vampiri! Guardate che moschetto che c'ha! C'ha un super... Guardate, sta sparando, sta sparando! Veloce, veloce, veloce! Guardate che ci avrebbe sparato! Boom! Doveva soltanto ricaricare la sua arma! Ma ce l'abbiamo fatta! Ah! Aiuto! Qua sono delle tombe luminose che si stanno muovendo veloce, 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 veloce! L'occoledì! Sì! Prossimo checkpoint! Ora cosa dobbiamo stare attenti? Non lo so, ma noi vogliamo solamente le zone sicure! Secondo me, adesso voglio vedere, sono curioso se toccavo questo morivo! Sì! Ma tanto abbiamo preso il checkpoint! Ora, sì! A mercoledì piace il nero, quindi dobbiamo stare sul nero, non sul bianco! Forza, forza, che c'è un altro cacciatore di strani come Mercoledì! Mercoledì non è un enormi, non è un licantropo, non è un vampiro! Lei è una strana? Non lo so! Saltiamo! Oh! Questa è un'illusione ottica! Guardate quanto siamo veloci! Tun! 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 Oddio, sembra che sta girando! In realtà è fermo, ma sembra che sta girando! Illusione ottica più bella di Roblox! Ora, nero, bianco, nero, bianco, nero, bianco e... La scalinata verso la morte! Ce l'abbiamo fatta? No, perché questo è un scivolo! Woohoo! Giù nel gabinetto! Non mi ha... Non mi ha tenuto il checkpoint! Ma... Woohoo! Testa in giù, testa in giù! Bravo, bravo! Checkpoint! L'abbiamo preso l'occole di... Sempre più bravo! Ora qui dobbiamo stare attenti, dobbiamo ricordarci dove ci sono questi cosi bianchi perché... Scompaiono! Woohoo! Se lasciate un mi piace, finiremo tutta l'hobby arcobaleno! Perché oggi credo che finiremo soltanto questa in bianco e nero! Non mi avete mai visto fare hobby così, molto parkour-esche? Ma io vi devo dire la mia! Sono bravissimo! Come vedete, non siamo mai morti! Oh! Oh, se morivo adesso facevo una figuraccia! Mettevo a piangere! Mettete un mi piaccino se sono almeno decentemente bravo! Non sarò bravo come alcuni di voi che lo fanno di professione! Quando vanno a scuola gli dicono, cosa vuoi fare da grande? Voglio fare lobbista! Voglio fare il parkourista di Roblox! Perché ci sono alcuni che sono veramente bravissimi! E guardate che abilità ci vuole! Questa ragazzina è veramente brava! Lei sceglie destra, io scelgo sinistra! Perché queste scale scompaiono una volta che noi camminiamo! Dobbiamo essere veloci, veloci, Locchi, veloci! Scrivete nei commenti, veloci, veloci! Datemi la velocità, se no cado giù, cado giù! Veloci a scrivere veloce! Veloce! Ce l'abbiamo fatta! Ora dobbiamo stare attenti alle macchie perché qualcuno ci ha fatto la pipì! Oppure è sangue ma non si può vedere il colore! E ora saliamo e boom! Ce l'abbiamo fatta, altro checkpoint! Stiamo attenti a queste linee! È un po' illusione ottica maledetta! Non avevo visto che si toglievano questi cosi! Brutto schifosa! Mi hai tolto! Ce l'abbiamo fatta! Non si insultano le altre persone! Si uccidono direttamente! Oppure le si fa soffrire! Le si tortura! Cos'è successo a te? Perché sei morta? Eh? Volevi ammazzare me? Adesso sei morta tu? Uh uh! Per me è super easy! Lei è morta un bel po' di volte invece! Qui non c'è niente che ci ammazza! Se non il vuoto più totale! Continuiamo! Uh! E ora perché non riesco? Scusate! Ah! Devo saltare qui! C'era tipo un vento! Una camera d'aria! Non lo so! Un condotto di ventilazione! Non mi faceva andare! Per ora non abbiamo mai sbagliato! Siamo bravi o non siamo bravi! Seguite tutto il video per scoprire un segreto di Loccoledì! Eh! L'unione tra mercoledì e... Locchi! Beh! Si poteva capire! Questo è abbastanza semplice! No! 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 Sta scomparendo tutto dietro! Aiuto! Aiuto! Veloce! 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 Siamo stati i vostri commenti meno male! Qui mi sento che muoio! Mi sento che muoio invece no! Ho sentito male! Ma qui stiamo attenti perché stiamo camminando sul nulla più totale! Aiuto! Siamo stati dei bravi equilibristi! Siamo allo stage numero 34 e siamo soltanto a metà! Adesso andremo più veloci! Vorrei andare più veloci ma non si può andare più veloci di così! Abbiamo anche superato queste ragazzine qui! Ciao Mano! Ciao! Salutate Mano! Mettete delle emoji della mano nei commenti! Salutate tutta Manina! E nei commenti mettete delle emoji delle manine! Come ho fatto a morire? E' impossibile che io morissi lì! Com'è possibile? Cosa? Ok! Sta diventando più difficile! Va bene! Sta diventando più difficile! Dobbiamo schivare il bianco! Schiviamo il bianco perché a noi piace soltanto il nero! Il nero è il colore più bello di tutti! Il bianco invece non è neanche un colore! Il bianco è in colore! È privo di colori! Teoricamente! Questo è quello che mi hanno insegnato! Checkpoint! Oh! Oh! Dovremmo non toccare il nero qui invece eh! Chissà come mai! Oh! Attenti! No! Cos'è successo? Questi cosi fanno cadere! Bisogna stare attenti! Ti fanno scivolare! Ma sono scivolato su uno di ste cose! Andiamo nero nero nero! Saltiamo! Oh! Questo era uno scivolo! Aspettiamo che passi l'elicotterino! Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Sì ce l'abbiamo fatta Ed è stato semplicissimo per noi L'occolidì Tu 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 Questo è molto semplice Cosa si muovono? Non li avevo ancora visti muoversi sti cosi Vedete che sembra facile E poi quando meno te lo aspetti Muori per una stupidata Oh 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 Cos'è sto tunnel? Aiuto Quando compare il prossimo coso bianco Aia Ma non so dove compaiono Non posso neanche schivarli Allora aspettiamo Bene Ci siamo fermati proprio un millimetro Prima che comparisse qualcosa lì Continuiamo Mamma mia di pochissimo Altra illusione ottica Ci mettiamo così in prima persona Almeno sembra un tunnel aiuto E ora su queste scale Cosa succede? Ci cadono dei massi addosso Delle tombe No non ci cade niente Ora dobbiamo scegliere Mercoledì o mano? Mano tutta la vita Cosa mercoledì? Va bene mercoledì Adesso mercoledì o mano? Mercoledì ancora Adesso però mano Ti ho fregato So benissimo come funzionano queste hobby Basta sbagliare la prima volta E poi capisce subito dove vanno a parare Meno male che abbiamo scelto il bianco Meno male Perché ce l'abbiamo fatta E adesso Oh aiuto i cosini I mattoncini che si muovono Aiuto 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 Vai il cosino bianco Grazie mille Oh mio dio Cos'è questo posto? Devo prendere un po' di pausa Perché sto parlando incessantemente Da Aia Chi va piano Va sano E va lontano E uccide al meglio delle sue capacità Piano Loki Non abbiamo fretta Non abbiamo nessuno che ci rincorre Siamo noi Che rincorriamo le prede Oh no Ci sono le tombe Ci sono le tombe Forse è qui che moriremo No è troppo semplice Questo parkour Ogni volta che l'abbiamo detto Però siamo morti Attenzione le manine Volanti Uuuuh Vai manine No Oh sì Volevo dire Nuovo checkpoint Saltiamo Quelli bianchi Abbiamo capito come si fa Basta guardare il laterale Guardate quanta strada abbiamo fatto Dobbiamo arrivare No Là in cima c'è il colore No Ci sono i colori Là in cima Che schifo Dobbiamo arrivare lì Da mercoledì Senza vestiti Che schifo Veloce 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 Salta Oh 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 Schiva schiva No ce la posso fare Sì ce la posso fare Ragnatele e ragni I ragni uccidono No meno male I ragni non uccidono Forza Loki Salta con quelle gambine scheletriche Vai così E ora Cosa sono questi teschi Che fanno aiuto No vabbè Io li salto tutti Per precauzione Bene bene Ora pedane volanti Aiuto Questo è difficile Mi sa eh Questo è difficile Salta 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 Sì ce l'ho fatta Ce l'ho fatta ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Salta su quello bianco Uh Per poco non morivamo Aspetta dobbiamo andare su questo Quanto 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 Dai che siamo prossimi Checkpoint Sì Checkpoint superato Cosa Non si possono toccare questi E allora che cos'è successo Va bene Siamo morti un po' di volte D'altronde La perfezione Aia Volevo dire Che commettere errori È umano Ma perseverare Quindi fare un Un'azione Commettere lo stesso errore Più volte È diabolico E a noi ci piace Commettere sempre lo stesso errore Perché vogliamo essere Un po' diabolici Niente Soltanto una scusa Perché sono morto tante volte Sto commettendo lo stesso errore Perché sono stupido E non diabolico Uh Rosso Se non è rosso sangue Questo fa schifo Ma cos'è Un parco giochi Un parco acquatico Un parco a tema Ci sono i peci Sto per vomitare Brutti sti colori C'è anche il blu Sì mi dovrei strappare i capelli Perché anche i miei capelli Sono blu Ma nella vita reale Sono neri Come mercoledì Uh Uh E ci abbiamo fatta Nuovo checkpoint Attento che qua Si scalda l'atmosfera Eh Si fa caliente E poi diventa molto caldo Quasi quasi Metterei init Dentro una fornace Finché non brucia Tra l'altro Nel casa contro casa Di mercoledì Che abbiamo fatto Abbiamo bruciato l'occhino Con delle fornaci Saliamo questa scala Eeeh La mia gola Sta esplodendo Non ho mai urlato così tanto Forse dovrei parlare A passavoce Facciamo un smr Vi citerò nel sonno Sto scherzando Non so neanche dove dormite Magari Non so neanche se dormite Magari siete dei pipistrelli Dormite a testa in giù Non posso ammazzarvi Mercoledì Sto arrivando Mercoledì Ce l'ho fatta Schifosa Non sono stato troppo A vedere mercoledì Perché era senza vestiti E ora Che cos'è questo posto? Oh mio dio Un trampolino di mercoledì Boing Aiuto C'è anche un parco giochi C'è un circo stregaso E c'è la casa di mercoledì E una chiesa Aiuto Che cos'è sto posto? Voglio andare sulla ruota panoramica Oscura Dall'occhio è tutto Nel prossimo video Facciamo piaceri I colori A mercoledì La tortureremo Con un bell'arcobaleno Dall'occhio è tutto Avete visto tutto Non buttatevi dalle Ruote panoramiche Sì Ciao Ciao